Le utilities hanno un po' nel DNA l'essere anticicliche, tipicamente sono imprese che investono nei momenti di crisi e questo dimostra la storia delle utilities. In passato le utilities hanno infrastrutturato i territori, oggi se guardate a livello aggregato il piano di investimenti delle utilities italiane è massiccio, noi stimiamo un fabbisogno di investimenti almeno di 10 miliardi all'anno tra tutti i settori che copriamo e capite che mettere nell'economia investimenti per 10 miliardi ogni anno è un grande volano per l'occupazione, per lo sviluppo economico, per l'incremento del PIB. Certo è che le utilities sono pronte per investire, ci devono essere poi le condizioni di contesto, regolatorie eccetera, autorizzative, che ci consentano di fare questi investimenti. In questo stiamo dialogando con tutti i vari interlocutori, ma noi continueremo a fare come in passato alla nostra parte.